In studio, Marco Scavino. Il punto su quanto sta accadendo in questo servizio. I superstiti, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Sudan e Isole Comore, hanno riferito di essere partiti da Sfaxi, in Tunisia, alle 23 di giovedì e di aver pagato 2.000 dinari tunisini. Anche ieri, a largo di Lampedusa, 46 migranti erano stati tratti in salvo ed era stato recuperato il cadavere di una donna che era invece annegata. Sull'isola, sempre ieri, è arrivato anche il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, ritenuto uno dei 17 dispersi nel doppio naufragio, verificatosi lunedì 24 aprile. Complessivamente, tra la giornata di ieri e oggi, sono arrivati 430 migranti. Sono 823 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. In serata, ha disposto un trasferimento con il traghetto di linea Novelli verso Porto Empedocle. Incidente mortale all'Ascari, incontrato a Gorgo Lungo. Un'auto con a bordo due giovani di Messina, per causa in corso d'accertamento, si è schiantata contro le recinzioni di diverse villette, finendo la sua corsa, sfondando il muro e la recinzione di una costruzione. Il passeggero, Andrea Finocchio, di 29 anni, è morto sul colpo. L'autista, di 37 anni, in codice giallo, è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Giglio di Cefalù. Sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi e le indagini del caso sono eseguite, invece, dai carabinieri della compagnia di Cefalù. Una donna di 85 anni, Rosaria Amato, è morta, invece, ieri sera all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale alcune ore prima. Alle 19.30 circa era stata travolta da uno scooter mentre stava camminando in strada a Niscemi, in provincia appunto di Caltanissetta. Da subito è stato allertato il 118, l'85enne è stata trasportata a Sant'Elia dove è stato riscontrato un grave politrauma e dove, poco dopo, purtroppo, non si è fatto altro che registrare il decesso. Cambiamo argomento. La sindacale, in riferimento alla protesta dei pescherecci, degli operatori della pesca in tutta Italia, che va a colpire anche la nostra regione con le nuove normative dell'Unione Europea. Oggi le sirene dei pescherecci suonano contro le nuove linee dell'Unione Europea, protestano ai porti italiani di quasi 3.000 pescherecci che rischiano di affondare a causa delle nuove linee europee che prevedono la scomparsa della pesca a strascico, a fianco dei pescatori col diretti Impresa Pesca che ha organizzato una mobilitazione che riguarda tutta l'Unione Europea con l'hashtag SOS EU Fishing per la giornata europea che si celebra il 9 maggio. L'obiettivo è far arrivare la protesta a Bruxelles al commissario della pesca e all'ambiente, le cui nuove linee di indirizzo ad integrazione della politica comune prevedono provvedimenti shock per la flotta italiana. La misura più dirompente, sottolinea col diretti Impresa Pesca, è il divieto del sistema di pesca strascico che rappresenta in termini di produzione ben il 65% del pescato nazionale, operando di media non più di 130 giorni all'anno. Ma le nuove linee prevedono anche la restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% di quelle attuali, denuncia sempre col diretti Impresa Pesca con scadenze ravvicinate nel 2024-2027 per concludersi nel 2030. L'eliminazione della pesca strascico senza che siano state peraltro previste risorse adeguate per la riconversione significa per l'Italia, calcola col diretti, la rinuncia ai due terzi del pescato nazionale, aggravando ulteriormente una situazione che nel 2022 ha visto arrivare in supermercati e ristoranti italiani oltre un miliardo di chili di prodotto straniero tra fresco e trasformato. Un settore che in un trentennio ha subito la scomparsa del 33% delle imprese e di ben 18.000 posti di lavoro, con la flotta ridotta da appena 12.000 unità. E intanto, rileva sempre col diretti, bussa già alla porta il pesce in provetta, dove l'ultima arriva dalla Germania con i primi bastoncini di sostanza ittica, coltivati senza aver mai neppure visto il mare. Cambiamo decisamente argomento, Caterina Chinnici è approdata ufficialmente, accolta da una standing ovation a Forza Italia. Caterina Chinnici è una mia amica, è un euro parlamentare eletta non nelle nostre liste, ha scelto di aderire da indipendente al gruppo del Partito Popolare Europeo e alla delegazione quindi di Forza Italia a Bruxelles. Standing ovation ieri per Caterina Chinnici sul palco della convention milanese di Forza Italia. Caterina Chinnici, figlia di Rocco, che diede vita al pool antimafia e fu ucciso da Cosa Nostra nell'83, ha dunque lasciato il Partito Democratico, annunciando qualche settimana fa il suo passaggio a Forza Italia. Sono sempre stata una moderata, ha detto, per la mia storia di magistrato lavoro su temi come diritti dei minori, sul contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e su tutti i profili connessi con le agenzie europee di giustizia e affari interni. In questa legislatura, ha detto ancora la Chinnici, ho visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio, mi sono spessa trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del PPE, con cui ho anche ottimi rapporti personali che non con quelli del mio gruppo. Alla convention la Chinnici ha partecipato a un dibattito sulla legalità insieme a Rita Dallachiesa, deputata azzurra e figlia del generale Carlo Alberto Dallachiesa, ucciso dalla mafia nel 1982. Sono molto felice e emozionata di accogliere nella grande famiglia di Forza Italia Caterina Chinnici, amica e sorella di dolore, ha detto Rita Dallachiesa. Per me questo, ripeto, è un momento di prosecuzione di un impegno in un contesto altro e però animata sempre dallo stesso spirito, che poi è quello che mio padre ha sintetizzato in due parole. E che Paolo Borsellino descrisse benissimo, parlando a mio padre, la religione del lavoro, fare, impegnarci, fare per rendere legalità, giustizia, democrazia, diritti, rispetto della dignità umana, rispetto della vita, farne realtà concreta, praticata ogni giorno. Poi il vicepremier Antonio Tajani ha ricordato i padri delle due forziste, due protagonisti della lotta contro il crimine, ha detto caduti per difendere la libertà e la democrazia. Cambiamo argomento, gli aeroporti siciliani tra chi va avanti e chi va indietro. Ieri è stata la giornata dei paradossi in Sicilia in riferimento al sistema aeroportuale, perché a Palermo si inaugurava la prima tratta alla volta della Turchia. A Comiso invece si chiudeva l'esperienza di Ryanair. Mentre le trattative tra SAC e Ryanair vanno avanti, restano i disagi dei tantissimi viaggiatori che avevano acquistato un volo e lo hanno avuto cancellato o dirottato su Catania. Per loro sono previsti dei rimborsi, ma non solo. L'aeroporto da questo punto di vista è strano al rapporto tra passeggero e compagnia aerea, perché il contratto che sarebbe l'acquisto del biglietto viene stipulato tra queste due parti. Ovviamente c'è una normativa europea che tutela i passeggeri, che è la 261, quindi direi ai passeggeri di rivolgersi al vettore chiedendo il rispetto dei propri diritti, che non sono soltanto quello del rimborso del biglietto. L'entità del rimborso pecuniario viene stabilito in base alla distanza della tratta che si doveva percorrere. In linea di massima si tratta di 250 euro per i voli fino a 1.500 chilometri, 400 fino a 3.500 e 600 oltre i 3.500. Tuttavia, se il passeggero accetta una soluzione alternativa per raggiungere la destinazione finale a questo volo e questo volo non supera di due ore l'orario di quello originale, tali rimborsi vengono dimezzati. Continuiamo cambiando però totalmente argomento, riapriamo la pagina legata alla cronaca. È stato arrestato un 37enne pregiudicato dai carabinieri di Mazzara del Vallo per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte. Per seguito ai familiari della moglie e incendia l'auto del suocere successo a Mazzara del Vallo dove un 37enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri nella stazione del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo. coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala per atti persecutori, incendio e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo con problemi di tossicodipendenza dopo essere stato denunciato dal padre, dal suocere e dalla moglie per reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia, minacce di morte e aggressioni verbali, come documentato dai militari operanti, avrebbe dato alle fiamme, cospargendo la prima di liquida e infiammabile, l'auto del suocero. Da una tendendagine degli inquirenti tramite l'estrapolazione di immagini di video e sorveglianza pubblici e privati e dell'escussione di alcuni testimoni, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del 37enne in merito all'incendio dell'autovettura del suocero andata completamente distrutta. I carabinieri al momento dell'arresto lo hanno inoltre trovato in possesso di una pistola d'aria compressa, detenuta illegalmente, priva del previsto tappo rosso. L'uomo, all'esito dell'udienza di convalide, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli agenti di polizia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP nei confronti di un ventenne accusato di una serie di furti e rapine in abitazioni commesse a Palermo tra agosto e novembre del 2022. Le indagini sono iniziate dopo un furto commesso lo scorso 21 agosto a Mondello. Il giovane ha sfondato il cancello della villetta con un'auto rubata, poi è entrato nell'appartamento, ha portato via con sé preziosi ed è fuggito. Al termine delle indagini, come detto, è stato intercettato oggi la custodia cautelare. Cambiamo argomento, lesioni personali è uno dei reati di cui dovrà rispondere un cinquantenne che è stato arrestato dai carabinieri a Giarra. E' stato rinchiuso in carcere Lucio Patanè, cinquantenne catanese, per lesioni personali e minacce aggravate. Le indagini sono state portate a termine dai carabinieri, coordinate dall'autorità giudiziaria che ha fatto luce sulla violenta aggressione dell'uomo nei confronti di un noto imprenditore di zafferana etnea di 50 anni, mentre era fermo nel proprio veicolo presso un distributore di benzina della città. In quell'occasione il malcapitato sarebbe stato raggiunto dal cinquantenne che, aperto lo sportello dell'auto, lo avrebbe malmenato, tirato fuori dal mezzo e afferrato con forza al collo e dopo averlo insultato si è poi allontanato. Il violento episodio avrebbe quindi intimidito la vittima al punto tale da indurla a non sottoporsi nell'immediatezza a cure mediche, prediligendo la scelta di tornare velocemente presso la propria abitazione. I forti dolori lo hanno portato però a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale di Giarre. Per lui la prognosi è di 30 giorni. Grazie alle telecamere di videosorveglianza l'uomo è stato individuato e identificato già con precedenti per danneggiamento, atti persecutori e distorsioni sempre in danno dello stesso imprenditore. L'uomo è stato subito raggiunto. Per l'ultimo episodio è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere, successivamente commutata in divieto di avvicinamento alla vittima e infine è condannato in primo grado di giudizio a cinque anni di reclusione e al pagamento di una multa. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un giovane di 29 anni, accusato di acquistare droga a Palermo per poi rivenderla ad Ustica. Appena sceso dall'aliscafo il giovane è stato bloccato e nel corso di una perquisizione di un pacco di pannolini sono stati trovati tre panetti di hashish per il peso complessivo di 290 grammi. È terminata la pandemia da Covid-19, una comunicazione che ieri ha di fatto sancito la fine di tre anni di dubbi, incertezze e tanto, tanto rammarico. Il Covid non si qualifica più come un'emergenza globale, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità che di fatto sancisce così la fine di un periodo che ha stravolto le vite di tutti. È nel 30 gennaio 2020, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato l'emergenza internazionale. In questo arco di tempo quasi 800 milioni di casi Covid-19 confermati nel mondo e ufficialmente quasi 7 milioni di decessi, anche se, secondo l'estimo MS, i morti potrebbero essere stati almeno 20 milioni. La decisione è stata ufficializzata dal direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo la riunione del Comitato di Emergenza che ha analizzato l'attuale situazione epidemiologica. È con grande speranza che dichiaro chiusa l'emergenza sanitaria globale del Covid-19. All'inizio della pandemia, fuori dalla Cina c'erano circa 100 casi e non vi erano morti dichiarati. In tre anni da quel momento il mondo si è capovolto, ha detto ancora il direttore generale. L'OMS ha comunque sottolineato che, anche se è stata dichiarata la fine dell'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, la pandemia non è finita. L'OMS non dichiara l'inizio di una pandemia e non ne dichiarerà nemmeno la fine. Tuttavia, un mondo stanco di Covid probabilmente interpreterà questo annuncio in questo modo, hanno detto i funzionari dell'OMS. Resta il rischio di nuove varianti emergenti che possono causare nuove ondate di casi e morte, ha aggiunto il direttore generale. E la cosa peggiore che i paesi possono fare ora è usare questa notizia per abbassare la guardia, per smantellare il sistema che hanno costruito e per lanciare alla gente il messaggio che il Covid non è più qualcosa di cui preoccuparsi. A proposito di malattie, di virus e soprattutto di strategie sanitarie, si è parlato di tubercolosi, della sua diffusione, ma soprattutto delle strategie da porre in essere per convivere, ma soprattutto debellare e quindi spezzare la catena del contagio. Un convegno promosso dal dottore Antonio Davi a Modica. La gestione della tubercolosi fra strategie cliniche e terapia se ne è parlato oggi a Modica nel corso di un convegno promosso dal responsabile scientifico, il dottore Antonio Davi. Un convegno sulla tubercolosi riservato a tutto il personale sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, ai medici di base, ai infermieri e tecnici sanitari. Si è parlato di aspetti epidemiologici, clinici, radiologici, laboratoristici, terapeutici, preventivi sul personale ospedaliero. Si è parlato della tubercolosi negli animali e sul riflesso sulla salute umana. Una tavola rotonda che ha visto la gestione dei casi, il ricovero dei pazienti e ovviamente la ricerca di eventuali casi nascosti per interrompere la catena del contagio. La situazione in Sicilia. La situazione in Sicilia non abbiamo moltissimi casi, giusto per parlare, ma è un'incidenza intorno al 5-6% su 100.000 abitanti, quindi non dobbiamo fare così allarmismo. Però è importante parlarne perché oggi non si bisogna solo pensare ai migranti. Pensate per esempio a tantissimi rumeni. Io ho mostrato una slide dove si vede che c'è circa il 24% del tasso di incidenza nei rumeni e noi ne abbiamo tantissimi, ripeto, non per colpevizzare i rumeni. Quindi anche fra gli italiani noi abbiamo avuto diversi ricoveri, ripeto, quel ritmo di circa 40-50 ricoveri, dove almeno un terzo sono di italiani. Quindi il problema coinvolge anche noi e quindi è importante parlarne per fare, ripeto, anche prevenzione, significa riuscire a intercettare coloro che hanno anche un'infezione latente, cioè quei soggetti che non hanno una malattia vera e propria, tosse, febbre, ma che hanno dei segnali, che si possono evidenziare come un intradermo di mantù, cioè un esame che si fa con la tubercolina e braccia, con un esame radiologico, che ci permette appunto di intercettare queste persone, di poterle curare, così interrompendo la catena del contagio e quindi bloccando l'incidenza dei casi stessi. La legge Cartabia al centro di un corso di formazione promosso ieri a Ragusa. La presunzione di innocenza quando la norma si scontra con il diritto di cronaca. Più di un semplice corso di formazione per la categoria dei giornalisti, ieri a Ragusa, a Palazzo della Provincia, in Viale del Fante. Giornalisti e procura a confronto approfondite le limitazioni derivanti dalla legge Cartabia, che ha di fatto alzato un muro tra giornalisti e fonti ufficiali, in particolare magistrati e forze dell'ordine. A relazionare sul delicato argomento che ha cambiato il lavoro e il rapporto quotidiano tra giornalisti e fonti sono stati Daniele Ditta, consigliere regionale dell'ordine dei giornalisti di Sicilia, che ha relazionato sulla posizione dell'ordine dei giornalisti rispetto alla riforma Cartabia. Poi la testimonianza e l'apporto di un punto di riferimento del giornalismo italiano, Pierluigi Rasler Franz, consigliere nazionale dell'ordine dei giornalisti, che ha parlato della presunzione di innocenza della riforma Cartabia, le direttive dell'Unione Europea e gli strumenti normativi come tutelare la professione e garantire una informazione corretta e completa. Ma come detto è stato anche un confronto perché ha di intervenire. È stato anche il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Fabio Danna, che ha parlato di come la riforma Cartabia abbia rivoluzionato la gestione degli uffici giudiziari, anche in funzione dei rapporti con la stampa e l'uso delle intercettazioni. Poi la testimonianza del cronista della Sicilia, Mario Barresi, su libertà di stampa della cronaca e in politica retroscena ed esiti giudiziari. Si lavora accedendo comunque alle stesse fondi con più difficoltà e secondo me con un'assunzione maggiore di responsabilità da parte nostra che in una situazione di vacazio e di una legge che secondo me ci penalizza molto dobbiamo faticare molto di più per arrivare al risultato. Ma non ci possono costringere a censurare o a occultare dati fondamentali per il racconto di una notizia. A relazionare anche la cronista giudiziaria di Palermo Today su come fare cronaca giudiziaria, identità degli arresti, divulgazione delle intercettazioni, come scrivere un processo, Sandra Figliuolo. Superarle è difficile perché io la mia idea che andrebbe riportato in Europa è far sapere all'Europa come ha recepito questa norma l'Italia e far sapere che si pone in contrasto con quella che è la direttiva stessa. Però diciamo siamo arrivati ai massimi sistemi quindi non è una cosa che si può risolvere naturalmente all'oggi e a domani. Io credo che noi come cronisti abbiamo il dovere di più ci chiudono le porte e più dobbiamo continuare a sbatterci dentro finché non si aprono. Il corso è stato moderato e organizzato dalla collega Viviana Sammito e dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia e la FIGEC, la Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione. 24, 24, minuti dopo le 14. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma MTG torna subito dopo con tanti altri argomenti. Restate con noi. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. La festa del patrocinio a Siracusa, i fedeli riabbracciano Santa Lucia. Si rinnova a Siracusa la festa del patrocinio di Santa Lucia. Celebrazioni oggi e domani per ricordare il legame tra la martire e la sua città. Il ricordo di quando nel 1646, in una situazione drammatica di carestia, fu chiesto l'aiuto a Lucia e la patrona ha immediatamente risposto. Una grande festa per sancire il legame tra Siracusa e Catania nel nome di Lucia e di Agata, attraverso la presenza dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. A sottolineare l'importanza del rapporto fra le due città siciliane, Giuseppe Piccione, presidente della deputazione della cappella di Santa Lucia. Santa Lucia dice il sì al Signore sulla tomba di Santa Agata. Quel 5 febbraio del 301, quando chiedendo la guarigione della madre, gli appare in sogno Sant'Agata e lì è il suo sì. Riflettori puntati sulla mostra del carro trionfale. Apparteneva a quello spirito, a quei luoghi della festa di Santa Lucia, attraversava la città nei luoghi simbolo. Un clima di festa, di allegrezza, in cui il sacro e il profano si uniscono insieme, proprio perché partecipa tutto il popolo. Maria e Lucia, due donne che parlano con gli occhi, è il tema della festa. Per la quinta festa di quest'anno speriamo che sia un'occasione, perché tutti noi, riflettendo su questa duplice realtà di Lucia e di Maria, possiamo vivere questo dialogo col Signore, quindi questo legame più attento a quello che è la volontà di Dio e che possiamo prendere coscienza e che il nostro impegno quotidiano, qualcosa sicuramente nella vita del mondo e nella nostra, sicuramente qualcosa la cambiereà. Oggi diverse le celebrazioni, tra le quali la traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla cappella all'altare maggiore. Il clou dei festeggiamenti domani, con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Alle 12 la processione in piazza Duomo delle reliquie e del simulacro verso la chiesa di Santa Lucia, alla Badia. La famiglia salesiana celebra San Domenico Savio e con lui a Modica, ma in tutto il territorio ebleo non si può non ricordare la figura di Nino Baglieri. In tal senso, celebrazioni nella giornata di ieri, ufficiate dal vescovo Rumeo. Una settimana intensa di iniziative, iniziate martedì scorso, per festeggiare San Domenico Savio, che ancora bambino decise quale sarebbe stato il suo progetto di vita, vivere davvero cristiano, e in questo fu decisivo l'incontro con Don Bosco. Da quel momento, infatti, la sua esistenza fu piena d'amore e carità verso il prossimo, cercando in occasione di dare l'esempio. Nel 1856 fondò la Compagnia dell'Immacolata e poco più tardi morì quasi quindicenne, divenendo così il più giovane santo cattolico non martire. A Modica oggi il clou dei festeggiamenti con la solenne celebrazione della Santa Messa, presieduta da Monsignore Salvatore Rumeo, vescovo della Diocesi di Noto, presso la parrocchia Maria Ausiliatrice a Modica Alta, durante la quale sarà ricordata la croce di Nino Baglieri e poi la benedizione delle mamme in attesa e la supplica delle mamme per la maternità. Un testimone della fede, un testimone della sofferenza, perché lui della sofferenza e della croce ha fatto la via per la propria santificazione. È un esempio soprattutto per i nostri giovani, un esempio di fede, di grande speranza. Nino Baglieri ha avuto la sua famosa caduta il 6 gennaio, 6 maggio, che per noi salesiani è la festa di San Domenico Savio. Quando lui, dopo la sua conversione, si è reso conto di questa presenza e di questa coincidenza nella sua vita, ha detto Domenico Savio vuole che io faccia un cammino di santità come lo ha fatto lui. Ecco perché da quel momento in cui siamo più o meno nell'81-82, ha voluto festeggiare ogni anno l'anniversario della sua caduta come anniversario della croce. Intanto ieri, in occasione dell'anniversario dell'intitolazione dell'ospedale maggiore a Nino Baglieri nel cortile del Nosocomi, è stata celebrata la Santa Messa da Monsignore Romeo, in collaborazione con la direzione dell'ospedale, il cappellano, e la partecipazione della Croce Rossa, dell'Unitalsi e dell'Associazione Piccoli Fratelli. Subito dopo la Santa Messa è stata svelata l'effigie del servo di Dio Nino Baglieri nell'atrio dell'ospedale, con l'inaugurazione della mostra itinerante sempre su Nino Baglieri. Preghiamo che Nino possa portare conforto a tutti gli ammalati e possa veramente intercedere per ognuno di loro affinché possano avere la guarigione sia fisica che spirituale. Avere per noi intitolato l'ospedale maggiore a un ragazzo, io lo definisco sempre ragazzo, che ha vissuto nella sofferenza e che però ha dato un contributo sociale, psicologico, di forza a una collettività come la nostra, ci rende orgogliosi. Adesso un'altra bella storia, quella di Nanà, un'amica a quattro zampe che vuole tornare in canile, lì ci sono i suoi cuccioli, ma ci sono tante altre prospettive. Per capire bene questa storia si deve fare un passo indietro. Quella che vedete in queste immagini è Nanà, una mamma cane, meticcia, dolcissima e nata in libertà. Un cane di quartiere che vive in una zona residenziale della città di Vittoria, in provincia di Ragusa. Nanà la conoscono tutti e non ci mette molto a farsi notare per il suo pancione che cresce settimana dopo settimana. Nanà partorisce in un luogo sicuramente non idoneo, in strada. Da lì la macchina organizzativa per trasferire la famigliola in una struttura protetta. Nanà, grazie all'associazione Pensieri Bestiali che gestisce il canile di Vittoria, raggiunge il rifugio e lì trascorre diversi mesi con i suoi piccoli. Due giorni fa, essendo ormai svezzati i cuccioli e ricordando che la cagnolina nasce come cane di quartiere, perfettamente ambientata alle logiche del traffico e della città, viene riportata nel suo quartiere di residenza. Viene dunque rimessa in libertà. L'indomani mattina però, la sorpresa. Già, Nanà è tornata in canile a distanza di 24 ore, ma la cosa più curiosa è che lo fa da ben due giorni. Il cane stava in una zona, la zona in cui lei è nata e cresciuta ed è vissuta, è una zona stupenda, gestita da persone stupende in strada, era un cane di quartiere amato da tutti, quindi se qualcuno magari può pensare che il cane stava male in strada, no, assolutamente, il cane stava benissimo in strada, però in questo momento della sua vita ha preferito tornare in canile, dove aveva i suoi cuccioli, dove aveva noi. Ovviamente i cuccioli di Nanà sono in adozione, ma a questo punto non solo loro. È veramente splendida un cane socializzato con le persone, un cane socializzato con altri cani, per cui potrebbe essere anche la volta buona che trova anche una casa. E ce lo auguriamo davvero, ce lo auguriamo davvero per Nanà. Sono le 14.35 minuti, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci scelto, vi ricordo alle 16.30 le nostre breaking news e poi alle 20.30 torna MTG. Grazie a tutti.